Noi ci siamo accomodati per parlare di inclusione e lo facciamo con Serafino Graziano Leuzzi, presidente dell'Associazione di Amici di Sampio, che è qui con me. Buongiorno Graziano. Buongiorno a tutti. E come di consueto anche collegandoci con l'avvocato Vincenzo Farabella, presidente nazionale di Fische, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, nonché componente del CNEL. Dunque linea alla regia per la sigla e poi di nuovo insieme per parlare di inclusione. Molto bene, molto bene. Dunque ci ritroviamo in onda per parlare di inclusione. Graziano, grazie per essere qui con noi. Presto effettueremo il collegamento con l'avvocato Farabella, presidente Fische, come detto, perché a breve si terrà il G7 dell'inclusione e della disabilità. Lascio a te il piacere di parlarcene. Quest'anno ci sarà il G7 dell'isabilità, dove i governi del G7 si incontreranno per parlare di inclusione e disabilità. Quest'anno l'incontro ad Assisi e quindi i governi che fanno parte del G7, i sette governi più grandi del G7, e si considerano l'occasione per condividere con le autorità del governo del G7, si occuperanno di disabilità, strategie e impegni per garantire a tutti il diritto e la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Di questo si parlerà nel G7 della disabilità, dove il presidente Farabella, come presidente Fische, Federazione Italiana Supervento dell'Handicap, farà parte. Molto bene, molto bene. Vediamo se abbiamo anche un sito web dedicato all'evento, oppure possiamo andare... Sì, c'è un sito web, perché il ministro Locatelli ha... C'è una pagina Facebook, c'è un sito web, ci sono tutti i contatti per il G7. Bene. Mentre la regia cerca il sito, e anche sul, pregherei di collegarci anche con il sito FISH, FISH abbiamo detto sta per Federazione Italiana per il superamento dell'handicap, perché sul sito sicuramente troveremo anche il collegamento dell'avvocato, dell'avvocato Falabella, per stabilire un contatto anche con lui. Nel frattempo, però, ecco, Graziano, vorrei parlare del tuo impegno quotidiano nel mondo della disabilità per una maggiore inclusione di tante persone che in vario modo appunto hanno queste diverse specificità e che, a differenza magari di tanti altri, ogni giorno devono impegnarsi un po' di più per raggiungere quegli obiettivi che magari per tanti di noi sono scontati. Quando nasce l'Associazione Gli Amici di San Pio? L'Associazione Gli Amici di San Pio nasce proprio nell'ottobre, il 19 ottobre 2021, tra pochi giorni festeggiamo il compleanno. Ah, che bello, quindi ormai sono tre anni. Tre anni, sì, tre anni di piena attività. Che siete attivi. Quali sono le iniziative che caratterizzano il vostro operato? Diciamo che noi, le nostre iniziative più grandi è la lotta proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Noi lottiamo a fianco alle persone con disabilità, proprio contro gli enti, a fianco delle pubbliche amministrazioni, proprio per tutelare queste persone e tutelare le famiglie. Non è solo il contributo economico, ma è proprio l'abbattimento delle barriere architettoniche proprio a livello pubblica amministrazione, perché l'abbattimento delle barriere architettoniche non è solamente all'interno della propria abitazione, ma è proprio il paese che si deve adeguare per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, proprio per questo dicevo prima, tante cose che per molti di noi sono scontate, come camminare per strada, attraversare appunto la strada da una parte all'altra. Per molte altre persone non sono così scontate, e quindi il vostro impegno è davvero importante, perché poi persone con diverse specificità, con diverse esigenze, ce ne sono tante, le limitazioni possono essere anche di varia natura. Sì, sono tantissime, perché disabilità non c'è solo la disabilità motoria, le disabilità sono tantissime e sono ampie purtroppo. Ecco, immagino chi non vede bene, chi non sente bene, chi non riesce a triangolare. Sì, proprio il garante dei disabili regionale, il dottor Antonio Giampietro, proprio pochi giorni fa, ha chiesto all'intervento delle assoluzioni proprio di dargli una mano per la disabilità visiva, per la disabilità uditiva, perché i monopattini stanno diventando un problema serio, perché sfrecciano sulle strade, e per chi ha problemi visivi, problemi uditivi, non li vede passare, quindi succedono poi degli incidenti. Eh sì, anche perché mi dai motivo di ricordare che molte volte, ecco, chi viaggia su monopattino, ma a volte anche sulla bicicletta, si crede di poter contravvenire anche ai sensi obbligati di marcia, e molte volte si procede nel senso opposto a quello dell'obbligo di marcia, e quindi è ancora più pericoloso, e quindi ne approfittiamo per fare un invito non solo alla prudenza, ma anche al rispetto delle norme da parte di tutti, perché poi, ecco, Noi chiediamo senso civico proprio a tutte le persone, perché il rispetto delle norme della strada, del codice civile, è proprio questo, cioè rispettare tutte le disabilità. È importante, questo è importante, Graziano. Dunque, noi abbiamo accennato oggi che la prossima settimana ad Assisi si terrà il G7 dell'inclusione della disabilità, ci soffermeremo su questo evento la prossima settimana, perché oggi non siamo riusciti a metterci in collegamento con l'Avvocato Falabella, quindi suppongo che il G7 durerà più di un giorno. Dura tre giorni, 14, 15 e 16. Molto bene, per cui venerdì prossimo, senza dubbio, faremo un focus più puntuale. L'Avvocato Falabella parteciperà al G7? Sì, 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 la FISH è la federazione più importante a livello nazionale, quindi è sicuro che l'Avvocato Falabella è presente, quindi ci potrà dare le informazioni più dettagliate di quello che è stato il G7. Molto bene, allora noi intanto ci scusiamo per i problemi tecnici che abbiamo avuto per non aver potuto raggiungere oggi l'Avvocato Vincenzo Falabella, ma senza dubbio venerdì prossimo faremo un focus più dettagliato su questo importante appuntamento che si terrà ad Assisi. Intanto, Presidente, il nostro tempo a disposizione è evaporato, ma abbiamo avuto modo per sottolineare alcuni aspetti importanti legati al mondo dell'inclusione e della disabilità, invitando soprattutto le persone normodotate a fare particolare attenzione per le persone con specificità diverse, anche nel banale attraversare una strada, nella banale di tecnici. Il pieno rispetto delle norme è importantissimo, perché non è che c'è quello che invito alla gente, non è solamente la persona in carrozzina che ha bisogno di rispetto per le norme, ma c'è la persona pure non vedente che ha bisogno di rispetto, c'è la persona pure... Sì, abbiamo detto persone che magari non sentono bene. Le disabilità sono ampie, quindi non vediamo solo la persona in carrozzina che ha il pericolo e quindi rispettiamo solo quella, cerchiamo di avere rispetto di più. Poi nel corso delle puntate parleremo delle varie disabilità, quindi avremo modo di far notare le varie differenze. Molto bene, non vedo l'ora di approfondire questo cammino insieme, perché tante volte, come dice un vecchio adagio, noi non conosciamo la storia degli altri, anche quando gli altri magari ci sembrano persone, come dire, non differenti dagli altri, ma ognuno di noi può nascondere una storia anche di sofferenza, di sacrifici, quindi rispettare gli altri a prescindere è una cosa molto importante. Sì, parleremo anche del nuovo decalo che ha fatto il Ministro Locatelli proprio su come nominare le persone con disabilità, che non esiste più il bimbo speciale, non esiste più le persone con disabilità, non esiste più il normo dotato, parleremo di tutte queste cose. Poi con l'Avvocato avremo modo di... Sì, lo faremo con grande gioia, con grande piacere, perché ancora oggi è molto importante recuperare questi temi, averne ampia consapevolezza, proprio per rendere l'inclusione un elemento reale, concreto, quindi una prassi quotidiana e non solo un modo di dire. Voglio approfittare per dire una cosa. Ieri mi è capitata in ufficio una persona che è venuta da noi, che sono dieci anni, che è invalida civile, e io ho chiesto se aveva la 104. La 104 è la prima norma di tutela per una persona con disabilità, e mi ha detto che non è stata mai chiesta. gli ho chiesto come mai non ha la 104, e mi ha detto no, perché il mio patronato non ha mai ritenuto importante richiedere la 104. Invito chi ci ascolta che la 104 è la prima norma di tutela per una persona disabile, quindi ognuno di loro deve avere richiesto la 104, quindi la 104 è la prima norma di tutela. Sono assolutamente d'accordo con te anche su questo aspetto, magari torneremo nelle prossime puntate. Ci tenevo a dirlo perché non è la prima persona che mi capita che non ha la 104, e come nome di tutela, siccome è la prima fondamentale proprio a livello nazionale, ci tenevo a dire questa cosa. Hai fatto benissimo, e noi ti ringraziamo per il prezioso lavoro che tu svolgi come presidente dell'APS e gli amici di Sampio, che svolge FISH nella persona dell'Avvocato Vincenzo Falabella su tutto il territorio nazionale. Lo salutiamo, ci dispiace che oggi non è stato possibile effettuare il collegamento, però recupereremo senza dubbio. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo con un focus sul G7 dell'inclusione della disabilità e poi su tutti gli altri temi che vi abbiamo annunciato. Dunque restate con noi, grazie Graziano. Grazie a voi. E arrivederci alla prossima settimana. Sigla.